In seguito a numerose segnalazioni riguardanti lo stato di degrado in cui versava l'area del mercato, qualcosa si è mosso. L'area, infatti, è stata ripulita dalla mole di rifiuti che si era accumulata a distanza di un mese dallo sgombero. La prossima mossa sarà quella relativa alla rimozione della struttura in ferro che consentirà così di restituire l'area urbana ai residenti, in attesa che l'amministrazione comunale prenda decisioni in merito.